signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale cinquantesimo video per l'arte del masteraggio e cento quarantesimo video in totale per il canale ma se è sincero non mi aspettavo che sarei durato così a lungo prima di cominciare un'altra comunicazione di servizio mi state segnalando in molti che di nuovo non arrivano le notifiche dei video di youtube come ho già detto non sono io a mandarle una funzione automatica del canale l'unica cosa che posso dirvi è chiedetemi l'amicizia su facebook lì pubblico manualmente io ogni volta che esce un video se avete problemi almeno siete sicuri di non perdervi mi hanno detto anche che fondamentalmente il sistema youtube tiene in memoria solo le ultime cinque volte che avete schiacciato la campanella quindi se dopo esservi iscritti a questo canale vi siete iscritti ad altri cinque canali vi siete automaticamente tolti le notifiche per questo e per precedenti l'unica in questo caso è togliere la campanella e poi riattivarla vale per il mio canale come vale per gli altri è una soluzione un po così ma altro non posso dirvi comunque non perdiamo altro tempo questa è la seconda parte del video della settimana scorsa quindi andiamo a a vedere la parte 2 del railroad sostenibile il primo tipo di limitazioni che potete inserire nella vostra campagna sono quelle che riguardano la fisica gli ambienti e l'ambientazione del vostro gioco ne abbiamo parlato nel video della settimana scorsa ve lo lascio qui in alto per chi non l'abbia visto vado a recuperarlo perché se no non capirà quello e diremo da avanti il binario fisico però non è l'unico modo in cui si possono indirizzare le azioni dei giocatori ce ne sono altri due fondamentali il binario logico e il binario temporale il binario logico si differenzia da quello fisico perché va a influenzare la storia non tanto sulle possibilità che i giocatori portino a termine determinate azioni ma sulle motivazioni che li spingono a portare a termine quelle azioni in questo caso l'influenza del master andrà ad agire sulla qualità e sulla quantità delle informazioni a disposizione del party e sulle reazioni che il master prevede i party abbia queste informazioni in molti casi basta semplicemente applicare la logica per capire quali saranno la sequenza delle azioni dei giocatori se i personaggi devono arrestare l'assassino che sta terrorizzando la città prima di andarlo ad arrestare dovranno scoprire chi è di conseguenza la scena in cui raccolgono gli indizi per scoprire l'identità dell'assassino sarà sempre precedente a quella in cui si confrontano con l'assassino ovviamente queste catene logiche di informazioni potrebbero essere anche più lunghe i personaggi potrebbero raccogliere indizi per scoprire chi è l'assassino e una volta scoperto chi è l'assassino scoprire che lui lavora per un'organizzazione più grande indagare sull'organizzazione più grande scoprire chi sono i membri dell'organizzazione più grande e poi scoprire che a loro volta questi membri fanno parte di un culto che ha intenzione di scatenare l'ira dei grandi antichi sulla terra ovviamente finché i personaggi non avranno scoperto le precedenti fasi della storia non potranno accedere a quelle successive dandovi la possibilità di preparare volta per volta quale sarà la prossima missione dei giocatori quando vedete che si stanno avvicinando alle fasi finali di quella logicamente precedente se conoscete il gruppo e vi siete fatti un'idea chiara di come gioca potete anche prevedere quali siano le loro reazioni non tanto in base alla logica della storia ma in base la logica del gruppo il party di pro di cavalieri onorevoli non si tirerà mai indietro se c'è da difendere i giusti e raddrizzare i torti ma magari non sarà minimamente interessato a muoversi per ricchezza potere influenza il gruppo di ninja furtivi sceglierà sempre solo l'approccio stealth e non farà mai una missione che prevede l'assalto frontale in alcuni casi basta anche usare la psicologia spiccia se il party fa sempre il contrario di quello che i png gli consigliano fate in modo che i png gli consiglino il contrario di quello che voi vi aspettiate che facciano infine anche la tempistica e la scala temporale degli eventi sono un ottimo modo che vi permette di anticipare quali saranno le mosse dei giocatori se una determinata scena può svolgersi solo in un determinato momento della campagna voi siete già sicuri che quella determinata scena avverrà solo in quel determinato momento ad esempio se il party deve cacciare un vampiro e il vampiro può uscire dalla sua bara solo di notte siete sicuri che non incontreranno la scena in cui c'è il vampiro non incontreranno il vampiro se non di notte e potete anche essere sicuri che se loro hanno detto che vogliono pedinare il vampiro per vedere dove è la sua bara attaccarlo di giorno la scena del pedinamento potrà avvenire solo in quel breve periodo che va dalla fine della notte all'alba che è il periodo in cui il vampiro torna alla bara non sarà né prima né dopo allo stesso modo potete accelerare o rallentare alcuni eventi della quest legandoli alla tempistica di altri eventi i vostri giocatori per arrestare il boss della droga dovranno sapere qual è il suo nome dal loro informatore quindi finché non ci sarà la scena in cui l'informatore li contatta non potrà esserci la scena all'arresto magari l'arresto stesso può essere legato a uno specifico periodo di tempo possono arrestare il boss della droga solo mentre è al porto a spacciare la droga perché prima e dopo sarà sul suo motoscafo in acqua internazionali quindi la scena dell'arresto potrà avvenire solo in periodi abbastanza limitati all'interno del ciclo temporale della quest giocando sulle tempistiche potreste anche favorire o impedire alcuni comportamenti da parte del party se devono arrestare il boss della droga quando è sul molo e il boss della droga resterà al molo solo per tre ore ma i rinforzi dei personaggi non arriveranno prima di quattro ore ovviamente l'unica soluzione per i personaggi sarà cercare di arrestare il boss senza i loro rinforzi anche stabilire un limite temporale per portare a termine determinate imprese potrà fare pressione sul gruppo e quindi costringerli ad accelerare o farli considerare di rallentare le attività che stanno svolgendo se il gruppo deve assolutamente abbandonare la città prima che arrivino le truppe del malvagio barone a cingerlo da sedio il gruppo avrà molta più fretta se le truppe il malvagio barone arriveranno il giorno dopo e farà le cose molto più in calma se le truppe sono previste che arrivino per il mese prossimo anche eventi temporali che non si rifanno direttamente alle azioni del gruppo alla missione che stanno facendo ma la quest più in generale potrebbero andare a influenzare la narrazione ad esempio se sta arrivando una tempesta che infurierà per una settimana impedendo ai giocatori di salpare dal porto con la loro nave i giocatori saranno costretti a restare in città per l'intera settimana di conseguenza diventerà molto più efficiente per loro svolgere prima qualunque missione sia prevista per la città sospendendo quello che stavano facendo al di fuori della città in questo modo l'azione di scatenare una tempesta ha anche se indirettamente influenzato il comportamento del party favorendo un comportamento e sfavorendone un altro per concludere voglio essere assolutamente chiaro su un concetto l'intero principio della narrazione su binari si basa sul fatto che il master vada a influenzare la narrazione per spingere la storia verso un determinato risultato non deve essere in nessun modo pensata con una giustificazione che permetta al master di andare a influenzare il modo in cui i giocatori giocano i loro personaggi c'è un'ovvia differenza tra inserire in quest una tempesta che duri diversi giorni per impedire ai giocatori di allontanarsi alla città e quindi spingerli a risolvere prima le quest all'interno nella città e scatenare una tempesta durante un combattimento solo per impedire a un giocatore di usare la propria abilità di volare come c'è una differenza tra fare in modo che le munizioni dell'arma preferita del solitario del gruppo siano difficili da recuperare e quindi spingerlo a contattare dei ricettatori che magari hanno delle sotto quest del lavoro sporco a fargli fare e introdurre solo mostri immuni alle fiamme per impedire al mago del party di utilizzare la palla di fuoco che è appena imparato come nuovo incantesimo in ogni caso comunque nonostante voi abbiate cercato di influenzare la narrazione verso un determinato obiettivo se i giocatori palesemente si rifiuntano di andare verso quell'obiettivo non sta a voi incaponirvi e costringerli a fare quello che per voi è più conveniente i giocatori e i loro personaggi sono i protagonisti della storia l'arte del master e anche quella di adattarsi alla loro volontà prevedere l'imprevedibile e improvvisare per mantenere alta la narrazione costringere i giocatori a fare quello che a voi torna più comodo perché non avete voglia di improvvisare non è neanche masteraggio è puramente pigrizia ed è un comportamento assolutamente inaccettabile diciamo che con questo è tutto e con questo video finisce anche la serie sul railroad è durata più di quello che mi aspettavo ma si tratta di un argomento fondamentale quindi non mi dispiace aver sforato il numero di video previsti questa volta vorrei sapere da voi nei commenti se voi avete qualche riflessione finale sul railroad voglio sapere anche se sono riuscito a scardinare i vostri preconcetti in materia o se siete ancora convinti che sia qualcosa di totalmente negativo come sempre scrivete nei commenti anche eventuali domande dubbi perplessità se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate il tasto della campanella nella speranza che vi notifichi i video io sono il master cane noi ci vediamo al prossimo video